Sì, sì, dai, dai, poi ci cito il tiro. Sì, sì, sì. Sì, sì, dai, poi ci cito il tiro. Sì, sì, dai, poi ci beccate in mezzo alla strada da soli, controllatelo, se invece ci siamo in tanti non va contro l'altro. Dipende, come volete, sennò... Io ho preso tutti di te, dovrei forzare. Se vuoi forzare forza, non si capisce questa cosa, sono più o meno, ok? Il corteo c'è sempre stato di tutti gli anni, questa cosa non si è mai vista, mai vista, va bene? Vabbè, fate quel cazzo da valore, è una roba veramente... Non così avanti, però... Bene? Bene? Bene. Bene. Bene, bene, bene. Grazie. Grazie.